Caricare la propria vettura elettrica in meno di mezz'ora. Da oggi è possibile grazie alla stazione di ricarica di nuova generazione che Alperia, il provider energetico alto tesino, ha messo in funzione nella città di Merano. Questo fa parte di un piano di infrastrutturazione che abbiamo oggi per l'Alto Adige per poter garantire il rifornimento ad una futura mobilità elettrica e per questo è un altro passo in avanti in questa direzione. È la prima collolina di ricarica Hyperfast in Italia e una delle prime in tutta Europa che sviluppata dall'azienda alto tesina Alpitronic consente di ricaricare con una potenza di 150 kW fino ad un massimo di 300 kW. Noi abbiamo ideato, sviluppato negli ultimi un anno e mezzo questa colonina ultraveloce che si caratterizza dalla compattezza, è molto molto più compatta dei sistemi che ci sono sul mercato e in più anche un sistema singolo, un involucro singolo, tutti gli altri sistemi sono molto più voluminosi, molto più grossi, più grandi. Con questa colonina Alperia rende ancora più smart la sua rete di infrastrutture di ricarica in Alto Adige che conta più di 100 stazioni. Oggi l'Alto Adige è già infrastrutturato per affrontare la mobilità, per consentire ai nostri cittadini di affrontare la mobilità elettrica in tranquillità e autonomia con l'installazione di questo ultimo hypercharger anche con la massima rapidità. La nuova stazione di ricarica situata nel centro di Merano accanto alla stazione ferroviaria riesce a caricare ad una potenza tre volte maggiore rispetto alle normali colonine fast. Sono molto grato all'Alperia che ha messo qui questa colonina che spera che abbia successo e anche che insieme con l'Alperia andremo avanti a fare tante altre cose in questa direzione. In questo modo è possibile ridurre il tempo di ricarica da un'ora e mezza a meno di 30 minuti. In futuro la potenza potrà essere portata a 300 kilowatt. Per ricaricare la vettura i clienti Alperia possono semplicemente utilizzare la propria tessera Alperia oppure l'applicazione disponibile per smartphone. Tramite un innovativo sistema software sviluppato insieme a Siemens Italia si può anche accedere alla stazione di ricarica pagando direttamente in loco tramite carta di credito o PayPal. Grazie a tutti.